Martina, della Martina Tonetti Pastisserie, attività rilevata dai tuoi genitori, come ti è venuta questa idea? Allora io fin dall'età di 14 anni ho sempre praticato questo lavoro, ho iniziato all'ENAIP di Bussarsizio e poi piano piano mi sono andata avanti a studiare, ho fatto sempre corsi di aggiornamento, ho lavorato nelle migliori pasticcerie della zona, di Bussarsizio e della Latte Samarate e successivamente ho deciso di mettermi in proprio.